E dunque lo abbiamo visto in diretta poco fa, è appena atterrato a pratica di mare il volo di rientro dalla Turchia con a bordo il primo team di vigili del fuoco italiani che ha prestato soccorso alla popolazione colpita dal sisma. Abbiamo sentito in diretta le parole di Luca Cari, responsabile dell'emergenza dei vigili del fuoco. Torniamo in diretta all'aeroporto dove c'è l'inviata Valentina Feno. Di nuovo buongiorno Valentina. Di nuovo buongiorno a voi, io sono qui con Laura Lega, prefetto e capo dipartimento dei vigili del fuoco a cui chiedo proprio come nasce questa missione. Il corpo nazionale, ahimè, da decenni interviene ogni qualvolta ci siano emergenze a livello nazionale e internazionale. Un riconoscimento, tra l'altro quello ottenuto oggi dall'ONU, di poter coordinare anche gli altri team user di altri paesi che sono intervenuti. Quanti paesi sono e come funziona questo tipo di coordinamento? È un numero importante, significativo. Abbiamo veramente dalla Cina all'OMA, dalla Gran Bretagna e molti altri paesi. È un riconoscimento importante di quella che è l'altissima professionalità. Un orgoglio italiano, lo voglio sottolineare, di uomini straordinari che oggi stanno rientrando, che hanno dato il cambio al nuovo gruppo. Un team significativo che ovviamente racchiude tutte le specializzazioni necessarie in questi casi per poter intervenire, per poter soccorrere. L'abbiamo visto, sono state salvate due persone, sono purtroppo intervenuti anche per recuperare delle salme. Ci sono gruppi specializzati di altissima professionalità, dotati ovviamente di tecnologie quanto più avanzate, robotiche non soltanto. Credo che l'intervento fatto anche in Turchia, e vedremo nei prossimi giorni, conferma quella che è la preparazione straordinaria del Corpo Nazionale in questo caso e che noi stiamo cercando di potenziare anche con ulteriori tecnologie, con altri dispositivi che possano consentire ovviamente di alzare il livello di capacità di risposta in caso di necessità e in caso di emergenza. Allora Guido Parisi, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, vorrei chiarire proprio dei dettagli su queste tecnologie, su queste attrezzature e su come funzionano queste team USAR Urban Search and Rescue. Il risultato che abbiamo visto in queste circostanze è il frutto di tanti addestramenti fatti sul campo. Purtroppo in Italia abbiamo avuto diversi terremoti, per cui abbiamo messo sul campo questa azione, ricordo l'Aguila Amatrice, ma il risultato è che noi abbiamo due campi di addestramento significativi, uno a Pisa, dove si sono esercitati e addestrati insieme all'altra squadra internazionale, dove formiamo centinaia di nostri uomini su queste tecniche che usano nuove tecnologie dal punto di vista SIA, ma poi abbiamo visto che occorre poi invece anche la manualità. Poi abbiamo un campo importantissimo, dove abbiamo fatto anche un centro di addestramento giù in Sicilia, a Poggio Reale, dove davvero anche lì abbiamo fatto, quattro anni fa, un'esercitazione internazionale, dove sono intervenute le stesse squadre che stanno operando ora in Turchia. La squadra chiaramente è un lavoro di squadra, che utilizza anche un sistema interoperabile tra diverse componenti, perché abbiamo la geologizzazione delle nostre squadre, sia italiane che internazionali, e questo ci ha consentito a questo punto di diventare davvero il team leader e di coordinamento di tutte le squadre internazionali. Quindi è un riconoscimento grazie a un lavoro di squadra che si fa costantemente. I nostri vigili fuoco sono davvero un punto di diamante, proprio perché siamo un corpo nazionale rispetto agli altri organizzazioni mondiali. Come proseguirà adesso il lavoro e in quali località sarete operativi? Saremo sempre operativi in una località dove abbiamo fatto il nostro campo base. Antiochia? Antiochia, esattamente. Quindi andremo in quell'area e continueremo. C'è stato il primo cambio oggi, per cui quest'anno già abbiamo mandato altri team leader. Sempre la forza dell'Italia è che in queste squadre, questa volta, oltre alle squadre che sono venute dalla Toscana e dal Lazio, abbiamo mandato anche le squadre Venete e Lombardia, ma a rotazione manderemo altre squadre da tutte le regioni. Proprio perché siamo abituati a... Sono coinvolte a sette regioni, mi sembra. Esattamente, quindi siamo abituati a lavorare in Italia in squadra, ma voglio sottolineare l'importanza che le nostre squadre sono abituate a lavorare insieme agli soccorritori sanitari. Tant'è anche il 118, la squadra USAR italiana e poi la squadra ammista, quindi sia i vigili del fuoco che i soccorritori sanitari. Infatti quello che le volevo chiedere è proprio se ci può descrivere un po' quali sono le competenze professionali che servono, sono le più disparate? Sì, sono le più disparate perché noi quando si fa una zona rossa, noi in una zona rossa entro dal primo i vigili del fuoco, individuano se ci sono dei scenari di pericolo imminente, rilasci di sostanze pericolose, gas, perché potrebbe essere anche un pericolo di esplosione. A quel punto, a quel momento in cui viene individuata una persona, si mette in sicurezza la persona, se c'è da fare un intervento sanitario, perché potrebbe essere che ci sia un'emorragia, è chiaro che intervengono anche i sanitari, ma che non sono abituati a intervenire in condizioni estreme anche sotto le macerie. Laura Lega, abbiamo parlato dell'esperienza che in Italia si è maturata, cosa ci insegna questa situazione? La necessità e la forza di essere un corpo nazionale, questo significa avere ovviamente non solo un addestramento, ma una capacità operativa che è un sistema modulare per cui si interviene a rinforza da tutte le parti d'Italia. Abbiamo citato anche in questo caso sono intervenute squadre provenienti da molte regioni d'Italia, perché la capacità è quella di lavorare come un solo uomo, il gioco di squadra funziona così. Le tecnologie ovviamente ci supportano, il lavoro, lo sforzo che si sta facendo è quello di, come dire, in qualche modo coniugare sempre di più preparazione tecnica e tecnologie, che ovviamente possono aiutare l'uomo e mettere in sicurezza i nostri stessi operatori, fondamentale. Sul posto a rientrare su questo volo c'era anche Luca Cari, lo abbiamo sentito, allora sentiamo cosa ci ha detto e poi la linea può tornare allo studio. Un grande riconoscimento da parte dell'ONU, accettato da tutti i paesi che si trovavano lì sul campo insieme a noi, il riconoscimento di un lavoro, di un grande, grande lavoro che è stato fatto sia in fase di addestramento, di crescita del sistema, ma anche, purtroppo, di una grande esperienza che abbiamo sul campo. Le nostre unità USAR sono abituate a intervenire in questi scenari, sono solti anche nei terremoti in Italia, nei crolli, quindi abbiamo una grande, purtroppo, ripeto, una grande esperienza. E grazie dunque all'inviata Valentina Fenue di questo, dei soccorsi, degli aiuti italiani alla popolo turco e siriano. Continueremo a parlare anche alle 7.30 nella nostra finestra sull'Italia.